E no. Un bellissimo album dei ricordi, possiamo definirlo diario, possiamo definirlo, me l'ha suggerito poco fa lo stesso autore, uno zibaldone, comunque un libro nel quale l'autore fa i conti con il proprio passato, risistemando, mettendo a posto nelle sue caselle tanti, li definisce fantasmi, che hanno popolato la sua esistenza come quella di tutti noi, che non vanno eliminati, ma messi nei loro posti e in qualche modo dominati e gestiti. Questi sono alcuni degli ingredienti di un testo ricchissimo di suggestioni, dicevamo anche di una leggera malinconia ma con episodi assolutamente esilaranti. L'autore del Il gabinetto del dottor Kafka, che è il titolo del libro pubblicato da Nutrimenti, è autore finalista alla trentesima edizione del premio nazionale narrativa Bergamo e Francesco Permunian, che è qui con noi. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi. Prego, buonasera. Grazie, grazie davvero. Il filo dei ricordi, mi sembra davvero questo il tema portante di questo tuo libro, i conti con il proprio passato. Quando è che hai deciso di farlo, di fare questi conti e quindi poi di metterli tra le pagine? Come dicevi il testo nasce lentamente nel giro di 14-15 anni, assemblando del materiale di vari incontri, di vari appunti alquanto anche rapsodici e occasionali. Poi sgorga improvviso negli ultimi due anni in cui la editor della Nutrimenti, la Benedetta Centovalli, mi chiede un testo nell'aprile, marzo-aprile del 2011, perché aveva assunto la direzione della nuova collana di narrativa di questa casa editrice indipendente romana, la Nutrimenti. Mi telefona da Milano, dice sto andando a Roma e vorrei mettere su una squadra di scrittori fidati, hai qualcosa? Ecco, succede sempre così, hai qualcosa nel cassetto, stai lavorando? E in quel punto lì ho messo assieme la casa del sollievo mentale e questo che giravano da un po' di tempo, circa dieci anni insomma, dal 2003-2004 erano in fase magmatica, bisognava come detto assemblare e addomisticare certi fantasmini, certi demoni. Perché? E tu dirai, ma come poco fa ci dicevamo, caro Massimiliano, io ho avuto la fortuna di conoscere un grande poeta francese che è Philippe Jacotet, che è pubblicato dalla Playade nell'Académie francese, insomma un nome tutelare ma a parte questo un grande personaggio e mi disse una volta a un festival del 2003, che non si può essere veramente scrittori e tantomeno poeti, lui è un poeta, se arrivati a una certa età, superati i 40-45 anni diceva lui, non senti il bisogno di voltare la testa all'indietro e di porgere il capo alla corona dei ricordi. Quella è stata una frase, sentita, ecco, che mi ha fatto ripensare, a dire ma cosa serve inventare nuove trame, cosa serve a stare alla moda editoriale di questi signori, di questa macina editoriale che ti spreme come un limone e ti butta via per la storiella d'occasione, dove ogni comico cantante o ballerina o barzellettiera va lì e gli pubblicano il romanzo d'occasione. E sentivi l'inutilità di essere scrittore, sentivi l'inutilità di una cultura umanistica che veniva sfregiata e sfigurata, veniva resa proprio serva di chi? Delle battute, del battutista di turno. Di turno, sì, del qui e ora e del più becero battutismo televisivo da salotto che si presentavano e la preferenza era... finiva un mondo, finiva con, ti posso dire, con gli ultimi anni 80, 90 del secolo scorso, con la morte di un Tondelli e con l'infognamento televisivo di Aldo Busi, che sono partiti come grandi scrittori innovativi che continuavano la tradizione umanistica dei Calvino, dei Zanzotto, dei Parisi, che questa è la nostra forza del secondo novecento e questi la continuavano. Dopodiché inizia l'epoca del baricco di Luca, cioè del televisivo, del marketing e dopo sono arrivati i comici, i comicini, gli epigoni degli epigoni. Allora, mi sono sentito outsider degli outsider, sfigurato con la mia credenza nella letteratura e ho detto, cosa hanno ridotto? A una discarica la letteratura, a un cesso. E ho preso questa metafora del gabinetto della stazione di Zanzano, che è quella che dà il titolo proprio e vi invito poi a scoprire naturalmente il perché. Dice, dici tra l'altro, l'ossessiva e assillante sciabordio quotidiano di chiacchiere letterarie, tutta quell'informe brodaglia che viene poi riciclata e trasformata dall'industria editoriale in manufatti librari, tutta quella disgustosa pacottiglia di compitini romanzati che furoreggiano nei salotti televisivi e nelle classifiche dei libri più venduti, eccetera, eccetera. Invece, gli incontri che hai fatto tu e che vengono riportati in questo bellissimo libro portano nomi, incontri così letterari, se vogliamo, perché si apre con tale James Joyce, ma poi si parla di Alda Merini, si parla di Zanzotto, si parla di Pasolini, si parla di tutti questi personaggi che hanno costituito una parte davvero fondamentale della nostra storia, della nostra cultura e della nostra letteratura. E allora dicevi, Francesco, prendendo spunto da quello che è stata quella telefonata dell'editor di Nutrimenti, hai detto, beh, adesso allora questo magma di ricordi che ho... Cerchiamo di coagulare, cristallizzarlo, ma sotto, diciamo, forzatura di lei per certi aspetti, che diceva in tre mesi dammi il libro, ha detto brutalmente come stanno le cose, che bisogna anche poi essere... hai capito? Certo, certo, certo. Però mi ha messo, diciamo, alla frusta. Ti ha costretto a... Mi ha costretto a fare i conti. A fare i conti e a dire tiriamo le somme in certo punto. E le somme sono tirate bellissime in questo libro. Hai capito il discorso. C'è una parte, naturalmente imprescindibile, di questo racconto della tua vita, della tua esperienza, molto strettamente legata anche ai luoghi da cui provieni. Tra l'altro, dici, fame, miseria, alcolismo, ridicole, superstizioni religiose, ecco di cosa c'era abbondanza laggiù, dalle mie parti. E di quell'enorme, avvilente abbondanza sembra impossibile, oggi non rimangono che dei brandelli di ricordi. Ma è una parte dalla quale non si può prescindere. Se vogliamo è un fantasma magari da sistemare, ma c'è. Che cosa significa il polesime? Per me significa, appunto, le mie radici contadine in un'area tipo Calabria o Basilicata. zona dichiarata dallo Stato italiano depressa dopo la guerra e l'alluvione del 51, in cui dall'11 novembre del 51, quando il Po o Chiovello rompe e allaga tutta quella zona di 4 metri e mezzo, perché l'acqua del Po si ferma sul muraglione dell'Adige, se no andava fino a Padova, ecco, tutta quell'area lì tra l'Adige e il Po viene sommersa fino al mare. Si ritorna, si scappa tutti, c'erano i camidogen che venivano a recuperare, quelli della guerra americana venivano a recuperare le persone. Si ritornano, ritornano i miei nonni e mia madre, ritornano nella primavera successiva, hanno sfollato oltre l'Adige verso la Padovana per salvarsi. No, si ritorna e trovano miseria, abbandono, la campagna da risolta e quindi c'è il primo grande esodo di massa, 300 mila persone che abbandonano e vanno a costituire negli inizi anni 50 la forza lavoro alla Fiat, all'Ambirelli e il boom economico nasce da lì. Nasce dal sud e dal Veneto più profondo che dà braccia da lavoro di 12 euro al giorno al comandatore Valletta della Fiat a prezzi bassissimi, ho visto le buste paga dei miei parenti che lavoravano là e le buste paga, se così si può dire, di fama dei contadini del Veneto. Ecco, ok? Quindi nasce lì, io nasco lì, in quella area ultra depressa con un clero terribile perché mandavano il peggior clero lì, essendo una zona rossa che confinava con l'Emilia Romagna, anarcoide, poverissima, mandavano preti terribili con figli di qua, figli di là, quindi avevamo proprio una condizione quasi da valle abbandonata, se tu leggi già le relazioni nell'Ottocento dei proprietari terrieri che vengono da Padova o da altri a vedere le campagne, è come scendere nelle valli, in quanto erano paludose allora, non erano ancora bonificate, erano zone proprio dove si nascondevano i briganti e chi non pagava le tasche, erano zone, però cosa succede? Che vivendo lì, no? Era una specie di russ, da fattorie di canca, di gogol, dei racconti, in cui convivevano, diciamo, aspetti pagani con una religiosità proprio devozionale, miracolistica, e io ho assorbito da bambino ipersensibili anche perché volevano mandarmi in seminario a farmi prete, per salvarmi, hai capito? Certo anticlericalismo dove nasci, no? E come una carta assorbente l'ho assorbita, poi chiaramente il maestro quando mi ha visto diceva, bravo bambino, sta bene in seminario questo qui, ma le sa le cose, e le ho, come dire, un DNA si è creato in quelle terre. In quelle terre, dalle quali, insomma, io le ho amate e odiate, però stando chiuso dentro lì, paradossalmente, ti dirò, è successo questo, che il desiderio di scappare via da quelle terre, no? Sognare altri porti, chissà dove, mi ha scatenato una fantasia incredibile. In quel mondo coatto di chiusura e di clausura che era il Polesine, come dire un lembo della Calabria, della Brasilica, si facevano sogni incredibili tra ragazzini. E quindi lì hai inutilito sin dalla... Alla decima potenza, alla centesima potenza, io sognavo chissà cosa. E poi incontravi anche personaggi, dicevo, c'è un tono di malinconia leggera, mai opprimente assolutamente per il lettore, ci sono poi degli episodi veramente esilaranti, ci sono dei personaggi che toccano profondamente, sto pensando a Carmen, io non entro poi nel dettaglio, invito voi naturalmente a scoprirli, però anche, dicevo, esilaranti come il personaggio dello zio, che poi si chiama Fred, perché vuole imitare un altro personaggio. Come hai scelto questi personaggi che puntellano proprio la tua storia? Guarda, un'altra volta devo ripetere, come dici bene tu, qui c'è sempre una commissione di comico e di tragico, che mescolandosi generano il grottesco, è tutto lì, la miscela, l'equilibrio difficile da ottenere, come un cibo da preparare tra il dolce e il salato, tra il comico e il drammatico e una parte di lirico ci devono stare, per creare questo grottesco, che è la mia cifra, ma il mio pubblico, i miei lettori sanno e si aspettano bene o male questa cosa, perché è così che scrivo e non posso cambiarmi, non posso fare il romanzetto giallo o il noir, non sono capace, non è il tuo mondo, non è il mio mondo, hai capito? E questo significa essere onesti, onesti nei confronti dei lettori, onesti con se stessi. Certo, era un mondo anarchico, povero, ma ricco di molta umanità, ricco di molta umanità, mi è rimasta quella pietas contadina lì, proprio da una religiosità popolare, dialettale, povera, poi con l'inizio degli anni 60 e 70 è scomparso tutto anche lì, hai capito? Non trovi più un deserto se vai là oggi come oggi, trovi dei fantasmi, non li trovi più, certo che vengono su. Francesco, siamo arrivati purtroppo alla conclusione del tempo a nostra disposizione che è assolutamente tassativo anche perché devi raggiungere Adriana Lorenzi e i lettori alla biblioteca Tiraboschi, però ci rivedremo, innanzitutto voi potete ripercorrere questo filo della storia e della memoria con il gabinetto del dottor Kafka, edito da Nutrimenti di Francesco per Muglian e ci ritroveremo anche con gli altri autori finalisti il 24 di aprile al teatro Donizetti per un pomeriggio davvero importante con ospite Claudio Magris e l'opportunità di ritrovare tutti gli autori che hanno fatto parte di questa edizione. Andate sul sito premiobg.it o sulla pagina Facebook anche per prenotare la vostra presenza perché ci sono già moltissime richieste e sono certo ne varrà la pena, così come varrà assolutamente la pena leggere questo bellissimo libro. Grazie Francesco per essere stato con noi, bocca al lupo e a prossimi appuntamenti. Bene, grazie, grazie davvero. Noi tra poco incontri, voltiamo pagina. Grazie.